Buongiorno amici, ultima tappa di questo tour per la Sicilia e oggi siamo nella meravigliosa e pittoresca Taormina. Taormina è una delle località turistiche più famose della Sicilia, è un luogo di grande fascino e bellezza che con le sue vie, piazze e antiche chiese è una vera e propria tavolozzo di colori, stretta tra l'Azzurro del Mar Ionio e l'imponenza dell'Etna. E ovviamente ragazzi una tappa obbligatoria qui a Taormina è lui, il teatro antico di Taormina, che meraviglia. Il teatro antico di Taormina è un capolavoro architettonico di rara bellezza, inserito in un contesto panoramico unico. Non ci sono tantissimi documenti storici su questo teatro, sembrerebbe essere stato realizzato da Gerone II sul tiranno di Siracusa e ovviamente come tutti gli anfideati del passato era destinato ai spettacoli di lotta tra gladiatori e belve. Attualmente questo anfideatro è il più grande, anzi è il secondo anfideatro più grande di tutta quanta la Sicilia. Continuiamo il nostro giro. Amici si concludono così questi quattro giorni fantastici in questa isola spettacolare. Spero che vi sia piaciuto il mio racconto, tutte quante le esperienze, sia quelle dei luoghi, sia soprattutto quelle gastronomiche. Se così fosse vi invito a commentare, a lasciare un like e se vi va anche a condividere. Noi speriamo di rivederci presto con un nuovo viaggio. Incrociamo le dita per il Covid, che tutto finisca presto e che le restrizioni vengano meno e che quindi in conseguenza torneremo a essere liberi come prima. Ciao! Noi speriamo di rivederci presto.